Sin dall'inizio l'idea era quello di fare, almeno per me, usare molto la musica rock, avevo voluto usarla anche di più, infatti in prime stesure del montaggio con Cristiano tra i giochi e i montatori abbiamo visto molto utilizzata la musica rock. Tra l'altro punto c'è venuto il dubbio che il film stava diventando una specie di esibizione da DJ e quindi l'abbiamo ridotto e abbiamo provato che una musica classica fosse un buon contrapuntio. Sostanzialmente la musica è esattamente il film, è esattamente quello che dici tu, cioè la dimensione un po' poderosa e statica di un uomo anziano, e di un mondo di quella politica, di quei partitori un po' ferono con delle relazioni molto specifiche. Faceva sì che la musica potesse essere un elemento che invece lavorava contro e in questo senso è stata utilizzata. però sì, l'idea iniziale, così di solito, si trova un'idea schemaria per raccontarsi il film e dicevamo facciamo 9 da rock, sono 3 otti, però l'idea iniziale, poi fortunatamente il film diventa più complesso di questo semplice gioco.